Torna il sempre più grande il premio Viareggio Sport Gerardo Gioè, 34esima edizione del riconoscimento assegnato ogni anno alle personalità più significative dello sport italiano. In vista della cerimonia di premiazione, in programma lunedì 19 alle 19 al Principe di Piemonte di Viareggio è arrivato anche l'ex numero uno mondiale degli arbitri Pierluigi Collina, viareggino d'adozione, nella sede della BVLG alla presentazione dei premiati. Fra questi ci sarà Sara Morganti, cavallerizza italiana, atleta paraolimpica, vincitrice di due ori ai campionati del mondo, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, Claudio Lotito, presidente della Lazio, Beppe Bergomi, commentatore sportivo, ma anche il nuovo Parma Calcio di Pizzarotti. Sono figure che nel mondo dello sport hanno dei meriti che li abbiano a livello dirigenziale, a livello di comunicazione, a livello di conquista di medaglie e di altro. Fiore all'occhiello, forse, della nostra manifestazione è quello di avere il privilegio, forse unici in Italia, di premiare il miglior arbitro e quindi di avere una collaborazione con l'AIA e anche col mondo paralimpico del quale siamo molto orgogliosi. Mi fa piacere che uno dei premi sia dedicato alla memoria di una persona a cui ho voluto molto bene, Aldo Bonomo, che è stato per anni un punto di riferimento del mondo arbitrale a Via Reggio. Il fatto che gli arbitri più importanti italiani negli ultimi dieci anni abbiano vinto questo premio rende merito appunto alla sua memoria. Sostenere lo sport è importantissimo perché lo sport richiama tanti giovani, una delle nostre missioni è quella di valorizzare e di stare vicino ai giovani. La lezione che ci ha fatto oggi, perché direzione si parla e si tratta, Pierluigi Collina, oltre a insegnarci cosa è la società oggi, ci ha detto anche quanto è importante oggi stare vicino ai giovani e soprattutto dare loro educazione e civiltà per affrontare il futuro all'interno di questa società.